Questo è il giardino della memoria, ricordo delle 140 vittime del Moby Prince. Il disastro è successo il 10 aprile 1991 e siamo al 2018, quindi sono 9 e 18, 27 anni dopo. Vediamo un'altra panoramica della fortezza, ripeto, completamente circondata dalle acque. Dove ci sono gli approdi sono tutti impegnati dalle imbarcazioni. Dovunque si gira, si gira intorno al giro giro ai fossi, ci sono le imbarcazioni. San Marco Fontino, questo è un dettaglio di quello che è il padio marinario. Ora, siccome è freddo, a questo punto io me ne vado e rientro. Stop!